Dar voce a chi non ne ha va in supporto di anziani disabili, l'associazione Vivere Sereni nata 12 anni fa con l'obiettivo di aiutare le persone più fragili del territorio. Nei giorni scorsi alla Villa del Bali di Saltara l'associazione ha presentato il progetto di inclusione, condivisione e integrazione che prevede la realizzazione di un centro di urno e residenziale tra Villa Nova e San Liberio. Nella struttura si svolgeranno laboratori didattici e percorsi ludico-produttivi ed educativi, come visite guidate, percorsi sensoriali, educazione all'ambiente, alla salute e alla quotidianità, ma anche attività motoria dedicata, orti biodinamici e aree verdi con alberi da frutto, erbe aromatiche e officinali. Un'opportunità diventata anche un'esigenza del territorio, come ha dichiarato il sindaco di Colli al Metauro Pietro Briganti. Dopo i saluti istituzionali sono seguiti diversi interventi, durante i quali sono stati illustrati i bisogni attuali, la storia dell'associazione e la rete dei servizi. Abbiamo avuto i maggiori relatori, dove il dottor Pesaresi ha parlato dello stato sociale in Italia e nelle Marche, con le sue problematiche, e terminato poi con uno studio fatto sul nostro territorio dalla professoressa Angela Genova dell'Università di Urbino, con la collaborazione delle ACRI locali, dove praticamente ha fatto uno studio sul nostro territorio, sui bisogni, ma soprattutto quello che è stato importante, che ha intervistato i nostri iscritti e quindi le famiglie, dove hanno portato i loro bisogni. Lo scopo di questo incontro è stato quello, ripeto, di far conoscere alle amministrazioni, al pubblico, quello che può fare il privato, in sintonia con loro, per dare risposte urgenti sul territorio ai bisogni della popolazione, soprattutto quella più fragile, l'anziano e diversamente abile. Oggi nasce proprio una vera e propria sinergia, un sodalizio con l'associazione Vivere Sereni. Sì, come sempre purtroppo dobbiamo vedere che chi si occupa del sociale, un grande contributo del sociale viene da associazioni, viene da privati, che in qualche maniera soccombono alle poche ricchezze che noi, disponibilità che abbiamo, quindi da una parte mi fa estremamente piacere, ci fa ben sperare che questi contributi siano di buon aspiccio per il futuro, dall'altra ovviamente ci lascia un po' di rammarico perché questo sarebbe quello che dovrebbero fare le istituzioni, però che spesse volte non riesce a colmare tutto quello che è la necessità.